franco genzale presenta la siringa di mila martinetti c'è poco da ridere signori e signori non è una barzelletta l'alto calore che da meno di un mese all'onore di avere come amministratore unico michelangelo ciarcia un manager dello spessore del combiando marchionne per intenderci sta facendo cassa con bollette da capogiro pensate una famiglia di atipaldi si è vista recapitare un avviso di pagamento di ben 20 mila euro ha praticamente essiccato le cascate del mia gara si tratta di un errore è molto probabile cosa dire se l'alto calore usasse lo stesso rigore per recuperare il patrimonio sperperato tra stipendi esagerati e consulenze agli amici potrebbe ripianare il debito milionario che si ritrova ripianare il tasso Grazie a tutti